Diego Armando Maradone a Caracas dove ha firmato un contratto con l'emittente nazionale Telesur per condurre un programma sui mondiali di calcio in Russia del prossimo anno e per l'occasione ha incontrato Nicolas Maduro. L'ex pibe De Oro non ha mai nascosto le sue simpatie e la sua amicizia nei confronti del presidente del Venezuela. Sono qui insieme alla mia famiglia per portare il mio supporto a Nicolas, sono in Venezuela solo per poche ore ma questo tempo lo porto nel cuore, come sempre siamo tutti soldati di Maduro.